e benvenuti a un nuovo episodio della carriera FIFA 20 col Macclesfield eccoci con il resoconto degli ultimi giovani facciamo così, Ballet, lo ingaggiamo e Blondon e li facciamo crescere, il resto, via! eccoci per la partita contro il Fulham, la scuola di bassa classifica salita quest'anno dalla Championship e che dire, proseguiamo la nostra striscia positiva, oh chi è il tuo capello 1? oh mamma mia, ma bella e buona, questi mi fanno saltare proprio, ok, giochiamo con la titolare visto che lui è subito il 78, il nostro portiere giochiamo dai dai siamo in casa al town park, Macclesfield Fulham, stavolta in premier due anni fa, quando li incolcivamo in centri, c'era una scuola dura da battere ma quest'anno sarà molto più forte, dai dai, Parrot, dai Evian Evian per Gibbs-White Evian, attenzione, Evian può avanzare tranquillamente attenzione da Parrot, Parrot, tante il tiro, Archer, calcio d'angolo visione, grossi in mezzo, Kalulu, palla sul fondo, peccato peccato, Kalulu, se non è mangiato, vabbè palla, Kalulu, Kalulu, vede sulla fascia Metal Nails, se lo serve quendolino Metal Nails può avanzare, ma in mezzo c'è lui, attenzione Luis, subito per Parrot, tra i Parrot, palo, peccato per ancora Metal Nails, attenzione Yatteren, si, si, fosse McDonnell, ma Davis intercetta palo per Parrot, attenzione Parrot Parrot ancora Parrot con una finta, attenzione, si libera sinistro, Archer, calcio d'angolo mamma mia Yatteren, Yatteren, zona tiro Jasper, il portiere esce, tranquillamente, il nostro Lewis c'è, Geronimo andiamo per Metal Nails, attenzione, Metal Nails palla filtrante per Lewis, grandissima palla attenzione, Lewis attende il movimento a rimorchio va in area, va dietro, Evian 1 a 0 a Macfield la sblocca all'ultimo, in uso del primo tempo grande passaggio di Metal Nails qui, eh che ha messo Lewis in condizione di mettere un cross a basso con cui Evian riesce a segnare 1 a 0 Macfield ecco qua, rivediamo l'azione salta anche una scivolata poi bravo Evian, solo lui a tirare e segnare ottimo bene così finisce il primo tempo 1 a 0 Macfield dall'ultimo, riusciamo a sbloccarla su, secondo tempo ma che si scura? oh, e che si scura? ah, ok questa bassa grafica sulla sede in basso a destra che si è drippato ok, cavallero da Bernardo attenzione Jasper la fascia per Riattare ancora Riattare attenzione può avanzare le colpa da ridi da in qui sta le colpa da ridi in mezzo oh, Jasper eh, 1 a 1 mamma mia brutto, brutto li ha fatti voglio segnare ti sono il tappeto rosso a questi e dai guarda là calulù la perso proprio mamma mia ma prima con l'impremio refiguto dai dai stica tu ecco ma ottimo vai Luiz peccato stica guarda sulla fascia per Bernardo Silva che è culo pure il rimpallo attenzione bravo no, vai al nice che fai? lo lasci? oh perché? voglio maronna mi voglio dai bravo eh, viene peccato Bernardo Silva guarda stica Jasper le polvo la rizza attenzione mamma mia che palla c'è il tiro palla fuori per fortuna nostra subito per Calulù in avanti per Osadevi ancora palla per Osadevi attenzione sulla fascia per Gravaccio Gravaccio si ferma ad Osadevi 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 no oh fallo signore eh questo almeno è munizione eh questa volta deve provarci Troy Parrot vai Troy oh ok provaci Troy vai Troy Parrot palo che peccato attenzione calcio d'angolo ancora ultimo corner corner della speranza vai Gravac troppo sul portiere però eh viene ancora di testa tiro della disperazione ma niente da fare finisce qui McSfield Fulham 1-1 peccato era una buona occasione per accorciare in classifica ma questo pareggio mi sta un po' indigesto eccoci prossima partita contro il Copenhagen qui faremo tour 9 perché tanto siamo qualificati e essendo secondo me una partita più importante su youtube probabilmente farò giusto la sintesi con i gol solo con i gol ecco qua ovviamente in formazione 2 ancora da lui qua e mettiamo il filandolo come c'è altro sale ok possiamo procedere Europa League McSfield Copenaghen quinta giornata del girone di Europa League se almeno pareggiamo questa non perdiamo passiamo primi nel girone ok ho messo la seconda squadra perché giustamente è una partita più importante dopo quella di campionato contro i Chelsea forza Osa Debi la box oh Pep Biel recupera palla attenzione ancora Pep Biel Crumenciccio come siamo spiazzati male però mamma mia Pep Biel in mezzo madonna Crumenciccio vantaggio Copenaghen difesa piazzata malissimo manchi i cani bruttissima proprio ai 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 cominciamo male questa partita dai attenzione Hill da Osa Debi Boxic per Osa Debi Osa Debi subito da Hill attenzione Boxic in area Boxic 1-1 la pareggiamo subito con Uros Boxic con un buon inserimento centrale bene così dai 1-1 forza ancora molto da giocare Crumenciclo da Win anticipo Archibald centralmente per Trumbic bella azione Osa Debi ecco Hill attenzione Hill Saleda para ancora Hill 2-1 McHalefield grande Hill li stiamo proprio dopo aver subito in un interno li stiamo proprio demolendo mamma mia grande Hill qui un po' di fortuna però riesce a segnare 2-1 McHalefield Kermancic Stager perfetto questa bella palla lunga per Gravance Gravance è veloce infatti super in velocità il difensore del Copenhagen cross in mezzo Trumbic mamma mia brutto colpo di testa palla sul fondo vale salita bravo Bocic sezione ancora fa Loxanen finisce il primo tempo intanto McHalefield Kopenhagen 2-1 dopo lo sbandamento iniziale siamo riusciti a ripaltare il risultato lo dobbiamo tenere così ci assicurano il primo posto nel tirone procediamo con il secondo tempo per Mnick Wind e Bocic Bocic per Rosalivi la patribla d'Orsanen d'Orsanen dietro per Bocic se ne ragionate dei nostri Oksanen buona palla per il Lille si libera del difensore il tiro e gol grande Damon Hill 3-1 Damon Hill sempre in onore del pilota di Formula 1 vediamo primo cambio di Fonny del Nights no ma che cambio lo faremo verso il 70 la data Sace scatto 3 minuti recupero Wind negli ultimi attacchi del Copenhagen ancora low per Wind Wind sulla fascia Archibald in fallo areale Wind Sace low ancora Wind Sace Wind attenzione cross in mezzo Fuono mamma mia grande postiere e finisce la partita McHalf Copenaghen 3-1 e ci qualifichiamo primi del girone ottimo vediamo la classifica attualmente siamo dodicesimi a 59 punti la prossima troviamo qualche incelte giusto 4 punti per noi stiamo a costare il benissimo e se vinciamo la prossima andiamo a fare l'aggerson anzi dove non stavo a farlo ma è un'altra differenza di l'aggerson è un'altra differenza di l'aggerson vediamo con la squadra titolare tranquillamente attenzione Chelsea McHalf dallo Stanford Bridge sotto la pioggia dai vediamo di fare bella figura proviamoci a vincere ma la vedo dura Chelsea bella squadra attenzione Pasal Ceppelli Morata verso per Conan ancora Canté Canté avanza Morata un po' più coltesso va per Celtic e Morata palla per Pasalic palla sul fuga meno male bravo Davis ottimo anticipo pallino avanti per Evian attenzione Evian di nuovo per Davis Davis ancora per Evian Evian vede il movimento di Troy Parrot che attenta il tiro Santelices in calcio d'angolo vai avanti avanti Gibbs White sei avanti Lewis vai 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 col contropiede 4 contro 4 ancora Lewis avanza può andare in area si ferma bravo Evian sbaglia però peccato il piede debole fannaccia peccato potremmo stare meglio con questo contropiede per Conan attenzione De Miral Fuga Maron uno squadrone Veli attenzione Everson palla in mezzo Veli mamma mia palla esterno oh c'è c'è una squadrone il Chelsea ed è ottavo forca proie Meta Knight Kanté mamma mia ancora Kanté Pasalic va da Veli ancora Veli attenzione Tacoma Thomas non riesce a spazzare ancora Kanté Veli lui spara calma finisce fino a tempo spazza in avanti ma finisce fino a tempo 0-0 piuttosta eh questa è la piuttosta che ho incontrato mamma mia ho fatto un paio di tiri questo solo con il contropiede riesco a a sua casa a sua casa Spato ad Aevin la fassa sinistra bravo Davis lupa palla e Gibbsweiss provata insomma la relazione da invenzione inoffensiva ancora Gibbsweiss attenzione in area la palla di Gimane tiro grande Gibbsweiss con un po' di fortuna porta in vantaggio il Maxfield meno male col cross la palla è rimasta nei piedi un po' di culo ogni tanto qui abbiamo avuto fortuna il giusto pittano è andata sulla destra attirata e l'ha messa nell'angolo grandissimo la palla lunga per vedi che controlla con un sombrero bravo Geronimo che spazza ma male perché Pasalic c'è che culo guarda dove è passato con la palla che peccato dove è passato wow che sfortuna quanto è ruta a fine un mezzo oh il potere si fuggia il pallone la mano mamma mia Conan ancora la due del gollo Pasalic oh Pasalic va tutto con lo spazio vai per sonno su calzola calzola bravo Geronimo la fascia per Kelly un bastino un contropiede attenzione bravo Kelly ancora può avanzare Kelly la faccia a tante contro infatti si ferma e la da attenzione Parrot vede il movimento c'è Osadevi 2-1 Buckelsfield Osadevi quel movimento centrale di Osadevi mamma mia grandissimo buono 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 scambio di ottane su si è una forza crescola in mezzo grande secondo me l'infermio è perosa debits buono vai no perché si è allungata la palla così tutta la palla perta Madison attenzione bravissimo meno male se l'è mangiata Madison mamma mia mamma mia che rischio non dobbiamo perdere queste palle così in uscita John Niles John Niles mette un cross lungo Gravac la ripete di tezza Oxanen guarda di nuovo a Kelly prendiamo palla prendiamo ancora palla attenzione Kelly cross in mezzo Pavardi in calcio d'angolo attenzione Oxanen palla per Parrot palla sul fondo peccato vabbè non fa niente meglio così attenzione palla vicina per Conan e finisce la partita grandissima vittoria in trasferta col cuore contro il Chelsea ottimo ottimo ragazzi ottimo ottimo e posso dirvi che con questa partita vi saluto ciao da Santi2087 share and